regionale per sordi, un sopralluogo dei tecnici del Comune di Firenze con il CNR alla facciata di Palazzo Vecchio dopo l'imbrattamento da parte del movimento ambientalista ultima generazione, avvenuto ieri, ha stabilito che la ripulitura è stata efficace e che ci sono solo due piccoli residui da rimuovere. A riferirlo il Comune stesso spiegando che questa mattina i tecnici della fabbrica di Palazzo Vecchio hanno effettuato il sopralluogo e l'intervento si è rivelato efficace. I due piccoli residui saranno rimossi nella giornata di lunedì. La facciata dunque non presenta danni. L'intervento è stato tempestivo ed efficace, quello di pulitura di ieri, ma abbiamo rischiato grosso e i danni potevano essere gravi, afferma il dirigente del servizio Belle Arti e fabbrica di Palazzo Vecchio. Valentina Mercanti, consigliera regionale, è stata eletta presidente del PD in Toscana questa mattina nella prima assemblea regionale dopo le primarie congressuali che hanno portato alla guida della segreteria toscana Emiliano Fossi, esponente della mozione Schlein. Valentina Mercanti, esponente della mozione Bonaccini, era stata sconfitta da Fossi. Il nuovo segretario regionale Fossi parla di un clima molto bello, alla base c'è la condivisione. Momenti di forte commozione hanno caratterizzato la giornata nazionale di ricordo delle vittime del Covid che a Pistoia è stata celebrata alla presenza di tutte le autorità cittadine nel Parco della Vergine, sede operativa della Misericordia, dove sono state anche messe a dimora due piante proprio al ricordo delle vittime e in segno di ringraziamento nei confronti dei volontari per il loro impegno. E a proposito di Covid, guardiamo insieme gli ultimi aggiornamenti per quanto riguarda la casistica in Toscana. Ci sono 157 nuovi positivi e purtroppo si registrano due decessi. In calo i ricoveri sono 143. Passiamo alla cronaca. Una banda di malviventi ha fatto saltare in aria lo sportello delle poste di via per Camaiore in località Cappella, siamo nel comune di Lucca, per poi scappare con la cassaforte contenente circa 24 mila euro. Il forte boato la scorsa notte ha svegliato i residenti della zona che subito hanno dato l'allarme, ma all'arrivo della polizia i ladri erano già scappati. I banditi, si presume siano due, sarebbero fuggiti con un'auto grigia che è stata ritrovata poche ore dopo a Carignano, in provincia di Lucca. È stata sequestrata per essere esaminata dalla polizia scientifica. Un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dall'ufficio GIP del Tribunale di Firenze, è stata eseguita dai carabinieri a carico di una 42enne fiorentina, già nota alle forze dell'ordine, indagata per furto aggravato e tentato furto aggravato, riguardo più episodi di furti commessi a Firenze, soprattutto all'interno di un hotel del centro storico. Cerca di sfuggire al controllo della polizia municipale e alla fine, quando viene fermato, gli agenti scoprono che in auto aveva della droga, si parla di hashish. Oltre un etto è successo lo scorso mercoledì pomeriggio a Firenze una pattuglia del reparto di Rifredi. Durante un controllo in viale Redi ha scoperto che un'auto in transito non era assicurata, oltre ad essere intestata a un prestanome peraltro deceduto. Gli agenti si sono accodati all'auto in attesa di trovare spazio utile per fermarla e il conducente ha iniziato a fare manovre per sottrarsi all'inseguimento, cercando di confondersi con le auto in transito. Ma la pattuglia aveva chiesto l'aiuto di colleghi e alla fine è stato fermato in via Gordigiani. Ci sono dei furti nei garage, un ride nei garage condominiali tra il civico 116 e 126 di Viale Togliatti a Sesto Fiorentino. La notte tra giovedì e venerdì scorso i gnoti avrebbero rivolto le loro attenzioni su una trentina di box, portando via una bicicletta da corsa dal valore commerciale di 6.000 euro. I proprietari hanno trovato anomali segni di forzatura e hanno subito chiamato la polizia. Una donna di 79 anni è morta in conseguenza di un infarto, ma se l'ambulanza non fosse arrivata in ritardo, mia madre si poteva salvare. È la denuncia di Nica Bassi, riportata oggi dal quotidiano La Nazione. Il litorale pisano di notte è sprovvisto di presidi sanitari e le ambulanze in caso di emergenza arrivano da Pisa o da Livorno con tempi di percorrenza piuttosto lunghi. Procedono i lavori per la realizzazione della linea tramviaria Fortezza, Piazza della Libertà, Piazza San Marco a Firenze. Dalle 21 di lunedì 20 marzo scatterà una nuova fase delle lavorazioni in viale Don Minzoni. Lo spiegano da Palazzo Vecchio. In particolare sarà ridotta l'area di cantiere sul lato da via Piercapponi a via Giacomini. Ci saranno restringimenti di carreggiate e dal punto di vista della circolazione ci saranno due corsie a disposizione tra via Piercapponi e via Giacomini. Itinerari, incontri a tu per tu con gli artigiani, botteghe e laboratori aperti per accogliere i cittadini curiosi di scoprire il lavoro che sta dietro ai prodotti unici realizzati dai maestri di Firenze Creativa. È l'iniziativa proposta da Artex in collaborazione con il Comune di Firenze per la settimana del Fiorentino dal 18 al 27 marzo. Saranno aperti gli atelier degli artigiani. E ora le previsioni meteo per domani in Toscana. Possibile peggioramento con cielo molto nuvoloso, qualche precipitazione sparsa, venti tra deboli e moderati, mari mossi e infine sul fronte delle temperature minime in aumento e massime in lieve diminuzione. È tutto per questa sera, grazie per averci seguiti, arrivederci.